Si preparino Cristina Elenia, Pignatoli Giorgio, Pini Marco, Pizarro Monti e Pignatoli Giorgio, Pignatoli, Pignatoli, Pignatoli e Pignatoli Allora la tua, rispetto ad Aron, mi dà il tuo fiducio, ci dà c'è Soprattutto per te Io questo non me lo posso permettere con te Perché lui mi scende e lui mi viene dietro Infatti però so che ho il vantaggio su questi tipi di salti che lui taglia proprio dentro Senza...